No, per me non ci sta niente da dire Non c'è neanche per me, figurati Dopo che lui viene scazzato, che dovrei stare io scazzata con lui e si è allontanata a me, non c'è più niente da dire Ma figurati Prima dice che gli dispiace che io perdo l'opportunità e poi dice che io arrivo in finale grazie a Aurora E certo, perché te lo fanno vedere e tu fai la vittima Ma sono due cose diverse che uno ti dispiace che io perdo l'opportunità E' un'altra cosa che tu dici, non è giusto che Gaia non balla per tre volte al momento in finale Ma sono due cose diverse Sono due cose diverse, sono due verità che io penso Ma comunque, come sempre, hai pensato al programma e non hai pensato a me Ma che c***o c'entra? Ma certo, è quello che io ti discuto